Signore e signori, buonasera, benvenuti in Minecraftita, io sono Surry, sono spawnati esattamente 48, no 38 perché ne sono morti alcuni, perché se io sto in questo blocchettino qui, arrivano, guarda come arrivano, e si spingono, ma ora sono in troppi e quindi devo ammazzarli io, perché altrimenti rischi che muoiono da soli, e se muoiono da soli c'è meno possibilità che tirano le teste, invece noi vogliamo due teste, No, una l'abbiamo trovata, uh, ecco lì un'altra, ci siamo già a quota 3, vediamo quanto, 4, bello, bello, soprattutto abbiamo tante ossa, che anche queste sono interessanti, ma non quanto il carbone, abbiamo già uno stack di carbone con questa roba qui, indecente, bellissimamente indecente, aggiungerei, mi chiedo se io possa o meno in questo momento piazzare qui delle cose, vorrei evitare di far spawnare dei ghast, perché un ghast ora sarebbe assolutamente deleterio, però, magari posso fare così, farmi delle doppie ceste, e distruggere questo subito, chiaramente, sulla cesta in teoria non è un blocco solido, non possono spawnare cose, e potrei fare una cosa di questo tipo, una lì, una qui, una lì, una qui, tanto sopra il vetro posso comunque, posso comunque far cose, e qui possiamo piazzare alcuni dei drop che ci hanno appena dato, poi le spade in qualche modo riusciremo comunque a distruggerle, un modo automatizzato per distruggere le spade dovremmo trovarlo, ecco, forse anche qui conviene usare la spada, forse dobbiamo fare una spada adatta per raccogliere le teste, la mia va già benissimo, chiaramente, c'è una sola differenza importante, cioè sweeping edge, sweeping edge sarebbe utilissimo in questo contesto, guarda quanto carbone, già uno stack e uno, bellissimo, solo ora ragiono che le ceste che abbiamo messo sotto il gym bro, nella piattaforma, servono in realtà a farlo stare leggermente più basso, così che solo i guider skeleton possano vederlo, e non invece, come pensavo, per raccogliere eventuali drop, perché la zona di killing è qui, ora, aspetterò ancora un po', perché voglio raccogliere un po' di teste, vediamo quante riesco a raccoglierne, secondo me riusciamo a portarne a casa davvero tante, e ciò ci consentirà di ammazzare tanti guider, e di conseguenza portare a casa tante guider star, nether star, scusatemi, che è l'obiettivo finale di tutti questi episodi che abbiamo registrato, portare a casa tante, tante, tante nether star, va bene, e... aspettiamo un pochino, e... c'è anche un blaze, va bene, l'unica mia paura è che il blaze possa aver colpito l'aeron golem, però insomma, se è qui, non ci lamenteremo troppo, uh, sette teste, madonna, che lusso, proprio lusso lo chiamo, mo tutte ste spade, da capire un attimino che cazzo facciamo, non è che posso, va bene, butto nel vuoto, ma è anche buttare nel vuoto, potrebbe avere... toh, guarda qui quanto carbone, bello, facciamo anche così, sotto invece ci mettiamo magari un po' di ossa, poi facciamo due livelli di carbone, che tanto so già che li raggiungo in un secondo, ok? Sotto facciamo la stessa roba con le ossa, e così, pum pum, tutti felici, tutti incredibilmente felici. Ora sono ancora più convinto che avremo bisogno della lodestone per raggiungere questa piattaforma rapidamente, e magari dovrò entrare e uscire da quel portale per consentire alla farm di partire, ma non credo neanche sia necessario, onestamente. Se io arrivo qui, cioè, dovremmo provare. Però guarda, in questo punto particolare ne spawnano una marea di sti cosi, e quindi fantastico, assolutamente fantastico, clamoroso, incredibile. Se premiamo F3 e guardo la voce E, posso... la voce E, che è qui, posso vedere che ci sono circa una dozzina di amici, che sono le entità, queste sono le uniche entità presenti, quindi siamo abbastanza safe nel dire che sono tutti Wither Skeleton. Che figata! È stato impegnativo realizzare questa farm? Sì. Bisogna essere molto precisi, come avete visto, anche qui si vede che ho sbagliato qualcosa, oppure il tutorial non era preciso, perché io penso di averlo seguito alla precisione, ma se sto un blocco più in basso funziona davvero alla... Cazzo vuole? Non dovrebbe essere qui. Ecco, sta roba dei blades che spawno ogni tanto non mi piace. Posso dirlo? Non mi fa impazzire. Non mi fa impazzire. Nove teste, siamo già a quota 3 Wither che possiamo spawnare. Tu direi, ci sarà un limite? Non lo so, vediamo. Vediamo quando mi stanco di stare qui. Ma soprattutto, se io qua sotto ci metto tipo dei hopper, domanda. Possono droppare da soli le teste? Perché magari la butto lì. Tra l'altro, già che ci siamo, fammi recuperare un po' di esperienza sul mio bel picconcino, che è da quattro puntate, che poverino è lì che scava con me, non so cosa. Un po' di esperienza per Gio Surry, per il suo piccone. Grazie. Molto apprezzata. Molto apprezzata, grazie. Vieni qua, vieni qua. Vieni un po'. Bello. 11. 11 teste. Bello. Bello. Molto bello. Allora, poi siamo alcune cose che non ci servono, tipo l'ossidiana, questi wall, ok. Anche il vetro in realtà non ci serve. Ho provato ad abbassare ulteriormente, ho provato ad abbassare ulteriormente, tra l'altro, il livello, ma così è esattamente il livello giusto, 200. E avevamo anche calcolato, non so perché, cosa è successo, però, vabbè, avrò sbagliato a piazzare l'impalcatura. Ok, ho riparato il mio piccone. Ora ho 15 teste, fantastico, vuol dire che possiamo ammazzare 5 weeder, ed è esattamente ciò che andremo a fare in questo momento. Mi porto dietro anche, perché no, un bel po' di carburante. Guarda quanto. Le blaze rod le ignoriamo, allora scendiamo qui sotto, con molta calma, e andiamo a vedere che devo andare in questa direzione. Tanto le coordinate più o meno le abbiamo segnate, e se riusciamo, vediamo se si può usare la lodestone, anzi aspetta, fammi viaggiare un attimino. Così è la lodestone, in tutte e tre le dimenze. Molto figo, molto molto figo. Avevo bisogno quindi di due lodestone, quindi due lingotti di nederite per fare questa roba qua, ma direi che non dovrebbe essere troppo un problema. Che cazzo è la mia base? Qui c'è un enderman. Eccoci. Allora, purtroppo, prima di andare nel end, devo fare un pit stop a casa, perché devo prendere la soul sand, non ne ho abbastanza. Quindi ne approfittiamo. Beh, in realtà l'inventario è abbastanza vuoto. Facciamo questo. Blocchiamo i nostri amichetti. Qua amo tutti questi bellissimi blocchi di carbone. Che goduria. Proprio una goduria, a vedere, incredibilmente soddisfacente. Bello, bello. Finito? Finito. Top, fai partire. Prendiamo la soul sand. E siamo molto sereni. Giusto? Giustissimo. Barchetta alla mano. Ci portiamo a casa. Tante, tante. Sai cosa? Magari prima di andare di lì, voglio piazzare le teste. Giusto per la coperta. Per vedere quante cacchioni abbiamo. Fare top. Immagirle. Magari si fa prima con l'accetta. Non so perché. Diciamo che la farm, secondo l'ideatore, è un design che in media raccoglie 130 teste l'ora. Che non è assolutamente male. Anzi è fantastica, come notizia. Noi per il momento ci accontentiamo di 5 stelle del nether. Tanto sappiamo che possiamo tornare lì. Vorrei fare questa roba delle lodestone perché credo che sia molto interessante. Anzi, penso che sia necessario al posto di andare in giro sempre con le coordinate visibili che ci sta. Ci sta, non mi sto lamentando. Però, aree, evitiamo. C'è una funzione del gioco che ci permette di farlo. Perché è svuotato? Perfetto. Dovremmo avere... Tan. Buono vuolmente, bello così. Andiamo nel land. Ma mettiamo il Wither. Sì, sto ancora sclerando dagli ulti termi. Però, tocca. Tocco la barchettina. Andiamo nella Stronghold. Allora, lanciamoci qui in mezzo. Andiamo sotto il portalino. Dritti, dritti. Sto pensando che, visto che qui abbiamo una ender chest, potremmo mettere la spada dentro l'end chest. Così che poi, in futuro, cose belle... Cosa intendo per cose belle, nel senso che, se sono alla farm di Wither Skeleton, metto anche lì un ender chest e raccolgo con la spada con Sweeping Edge, che è più comodo. Allora, Wither numero uno. Ok, grazie. Mangiamo una carotina. Piazziamo la Soul Sand. E facciamo il Wither numero due. Non teniamoci giusto per l'esplosione. Anzi, guarda, per sicurezza mi metto comunque l'armatura. Che tipo... Vediamo che succede. Boom! Fantastico. Arriverà il giorno in cui questa cosa qui del portale non funzionerà più, ma io non lo saprò e succederà un casino. Molto probabile, signori. Molto, molto probabile. Siamo al numero tre. Esplodere. Sempre. Esplodi, esplodi. Esplodi, 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 esplodi. Com, com, com. Hem. Ok. Scudo attivo. Quante esperienze dà il Wither? Ok, da 33? Mezzo livello. No, più efficiente quella di... Sì, ovviamente più efficiente anche per il livello di sbatti. Quella di Enderman. Monteniamoci un pochino. Mangiavamo un'altra carotina? Non è necessario. Esplodi. Fantastico. Ok, morto. Quota 4. Manca l'ultimo. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Sto pensando che potremmo usare le teste di Wither flexandole con questa farm e usarle proprio come blocco di costruzione. Potrebbe essere una roba, eh? Potrebbe. Ed eccoci qua con l'ultimo Wither ucciso. Quota 5 Netherstar. Possiamo fare ben 5 B. Ottima cosa questa qui. Rimettiamo la nostra elitra, giusto perché non vorrei mai dimenticarmi che non la sto indossando e buttarmi nel vuoto. Sarebbe davvero un peccato. Possiamo dirlo? Diciamolo. Vado solo a fare questa piccola modifica all'assetto della spada, nel senso che la vado a mettere dentro la hand chest, che mi sembra un'ottima idea. Tanto Ossidiana ce l'abbiamo, Blaze Rod ce l'abbiamo, Ender Eye è un secondo a farli. Vi faccio un'altra Ender chest e la mettiamo lì nella farm. Secondo me è un'ottima idea, signori. Ottima. Allora facciamo così, prendiamo questa spada con Sweeping Edge e la mettiamo qui al posto ma potremmo levare alcuni di questi blocchi in effetti. Ecco così, teniamo la netherite scrap, la netherite insomma teniamo più a portare di mano. E siamo contenti? Ma siamo contentissimi, signore e signori, siamo contentissimi. È un buongiorno in quel di Minecraft, è un buongiorno. È una buona notte, è un buongiorno insomma dipende a che ora guardate. Ok, possiamo tornare a casa e festeggiare. Ora, cinque non sono neanche tantissime, però che dire? Cioè per fare quello che voglio fare me ne servirebbero e voi direte cosa vuoi fare Surry? Cosa vuoi fare? Stai calmo, stai calmino. Sembra un'ottima risposta. Quello che voglio fare lo scopriremo nelle prossime puntate. Eh già, tocca. Allora, cinque netherstar, eccole qui, belle belline. Peccato che si raccomula tutto, sarebbe molto più bello vederle separate, ma siamo già molto contenti così. L'ultima cosa che voglio fare è... Lo signale ce l'ho? Aspetta, forse ce l'avevo sempre lì dentro. Allora, facciamo i beacon. Andiamo... Ah, otto pezzettini? Riesco a farne... Sì, due riesco. Mi servono anche dei diamanti? No, non mi sa. Beacon, ne riusciamo a fare giusto due. Riuschiamo? Cos'è che ho detto? Ora, in realtà, giusto per fare ciò che voglio, mi bastano 18 blocchi di ferro. Cioè, avere intanto la possibilità di avere qui sotto il raggio di luce, sotto queste due accette, che è il motivo per cui siamo da una settimana in ballo, mi sembra già un'ottima cosa. Quindi, a me piacerebbe avere qui sotto dei blocchi di ferro. Uh, culo, culo. Cioè, culo. Tutta skill. Però, torniamo lì sopra. Facciamo che... Uno di qua. Facciamo così. Uno di qua. Due. Basta per il beacon? Eh, in teoria dovrebbe bastare. Mi serve... Uh, 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 uh. Ci abbiamo ragione. Fantastic. Poi possiamo dare anche un colore, eh. Ma per il momento lo renderemo anche poi un beacon più sensato, chiaramente. Cioè, che ci dà anche degli effetti. Perché no? Tanto questa è una zona di gioco abituale. Però per il momento volevo, per concludere questa puntata, vedere... Ammo lì. Esatto. Uno, due, tre. Tre. Oh, ma... Cazzo, sono finito. Così. Qui. Dovevo sentire lo zoom. Giusto? Jump boost, resistance, strength. Ciò per il momento. Ci piace l'idea di avere questi due raggi che escono. Ma che figata. Pensate quando saranno anche colorati. Questi sembrano dei Power Ranger cazzosissimi. Lo so, dobbiamo ancora finire in realtà tutto. Non so perché mi è partito uno screen. Dobbiamo finire ancora queste accette qui. Ma non solo. Bisogna fare tutta la parte sotto. Che o è terraforming o ci facciamo una struttura bella. Perché mi è venuta un'altra idea. Ma ne parleremo meglio nella prossima puntata. Per il momento è tutto. Vi ringrazio tantissimo. E noi ci vediamo domani alle 7. Con la prossima mutata di Minecraft Ita. Ciao, turuturo a tutti.